Grazie, buongiorno, auguri e saluti d'anticapitalistas e vi ringrazio dell'invito a questa assemblea. Vediamo prima un contesto di crisi nell'Unione Europea, dopo Grecia il Brexit e la crisi dei rifugiati si vede anche la distruzione progressiva del centro politico che ha gestito un po' l'Unione Europea di questi decenni precedenti. Adesso fa 60 anni si è fatto il trattato di Roma fondatore della comunità economica e in quell'epoca l'idea centrale era di evitare l'ostilità franco-tedesca e garantizzare una crescita economica in un contesto di diritti sociali e democratici e in un contesto internazionale totalmente diverso ovviamente e con un movimento operaio molto più forte. Con una politica anche estera fin a un certo punto indipendente da parte comunque di De Gaulle e proprio Adenauer e con gli anni 70 si vede una dinamica di crisi e si passa da un'Europa di convergenze verso un'Europa diciamo di divergenza sociale-economica eccetera. Cioè una unione, non proprio una unione ma comunque una disunione nei fatti. Allora la combinazione del neoliberalismo e allargamento verso l'est alla fine degli anni 80 o inizio degli anni 90 ha favorito la ristorazione del capitalista lì e ancora ha abbassato più i salari nell'insieme del continente. Negli paesi del sud dell'Europa, specialmente quelli che sortevano di un'esperienza dittatoriale come la Grecia, la Spagna e il Portogallo, l'Unione Europea, il progetto europeo era proprio una genere di sonno per rifare l'egemonia della borghesia dopo le dittature e quello ha mutato con l'arrivata del neoliberalismo. In particolare dopo l'unione monetaria, il patto di stabilità del 1997 e poi l'atta del mercato unico del 2011, sono andati annullati i poteri del Parlamento nazionale in una struttura sopranazionale di autorità burocratica, protetta della volontà popolare che espressano i parlamenti nazionali. E poi è arrivata, come sapete, l'austerità draconiana imposta dalla Commissione Europea e in particolare della Germania reunificata. oggi si vede un livello di insatisfazione dei votanti enorme che spiega questa crisi del centro politico, centro-sinistra e anche centro-destra a livello europeo e si vede ancora che l'euro non aiuta alla crescita economica a livello continentale e ha imposto una sofferenza enorme in particolare ai paesi del sud. Ma credo che questo può spiegare un po' i problemi che ha Podemos, per esempio, a livello elettorale per fare il sorpasso ai partiti, in particolare dal partito socialista storico, si vede a livello di masse che il sistema europeo è cattivo ma opporsi può condurre a punizioni troppo dure, in particolare dopo l'esperienza greca. Allora, vediamo adesso quale sono un po' la… vediamo un po' il quadro attuale dove con il Brexit avevamo visto che sono in particolare la paura ha stato, diciamo, superata dalla rabbia e finalmente i valori irrazionari, i rassisti sono sulla base, diciamo, del voto per il Brexit. Lì in Gran Bretagna il neoliberalismo è così forte che non hanno bisogno di camicie di forze esterne come l'euro o la troica per essere imposto e poi in Stati Uniti l'arrivata di Trump è anche, credo, un'espressione, diciamo, di antisistema, di un voto antisistema anche più reazionario e più imperialista ma comunque contro i poteri imposto e contro i mass media e credo che sono veramente vittorie della destra antisistema, diciamo. Ma a livello dell'Europa credo che comunque il sistema resiste e addirittura crea nuovi ricambi per il centro liberale come Ciudadanos nella Spagna e questo sperimento di Macron in Francia per proporre una sorta di neoliberalismo senza corruzione, diciamo. E allora quali sono le ipotesi, credo, più probabili per il periodo che si avre adesso? In primo luogo credo che marciamo verso una nuova recessione, credo che evenimenti come quelli della Banca Monti dei Paschi qui in Italia e le difficoltà della Deutsche Bank sono sintomi di che non avevamo uscito dalla crisi e che si avvicina a una recessione forse più brutta che quella precedente. Dopo credo che gli effetti di Brexit e di Trump non hanno ancora arrivato a livello politico e economico all'insieme dell'Europa. Poi si prepara una nuova offensiva dall'alto di austerità per indebolire fino in fondo il movimento operaio e per avanzare nella privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici. Poi la concorrenza feroce con i paesi emergenti spingono le elite europee per imporre nel ventunesimo secolo condizioni di lavoro dell'Ottocento, infatti. E poi anche si vede un pericolo che è proprio la crescita dello stipendio militare nel quadro della NATO, con un ruolo ogni volta più modesto degli Stati Uniti, in particolare qui in Europa, per cambiare l'atteggiamento dei rapporti con i russi e poi questo è legato probabilmente a nuove crisi politiche nell'elezione presidenziale in Francia in aprile e poi in Germania in ottobre. Ecco, quali sono, per andare a rifinire, l'elezione per la sinistra e a trarre dagli avvenimenti dei due anni scorsi. In primo luogo credo che non si può essere meno antisistema che la destra e credo che questa è una lezione assai chiara della situazione. Poi credo che si deve essere sicuro che non sia riformabile l'Unione Europea e credo che questo sia il secondo elemento a pensare. E poi finalmente non è tempo di moderazione politica. Purtroppo la linea della direzione di Podemos, per esempio, è incapace di fare un bilancio serio della sconfitta di Sirisa e della capitulazione di Tsipras, per esempio. Ma dobbiamo rivendicare una radicalità di sinistra perché giustamente la politica si polarizza adesso in Europa e nel mondo. Certo una forma più o meno simile a quella degli anni 30. E per finire, veramente, qualche idea a livello programmatico e strategico per il periodo attuale. Anche se l'euro è proprio il veicolo per le politiche di austerità, rompere con l'euro, a mio avviso, non solventa per sé stesso nessuno dei problemi che hanno i popoli europei, né i rapporti economici e internazionali, né i rapporti di classe a livello nazionale. Infatto il ritorno alla moneta nazionale farebbe più care le importazioni e farebbe ancora più vulnerabile la moneta agli attacchi finanziari speculativi. Ovviamente il caso greco è particolare e merita un dibattito concreto che nonostante non può essere strattamente generalizzato all'insieme dell'Europa. E quindi il centro della situazione politica europea non è proprio l'euro ma la questione del debito, è proprio il debito il centro del dibattito politico. Nel mio avviso la politica a seguire è proprio la disobbedienza all'austerità, in particolare proprio dopo l'esperienza greca, disobbedienza anche ai diktat europei e il rovesciamento del debito estero come politica unilaterale ma non nazionalista, al contrario internazionalista che deve cercare di legarsi a processi simili in altri paesi dell'Unione. Poi il rilancio di una logica internazionalista intorno a una campagna per il plan B europeo e la mobilitazione concreta a scala europea per rivindicazioni in positivo, offensive, delle classi popolari, dei ceti popolari. Il problema del riflusso del movimento no global è proprio quello che non abbiamo una dinamica di mobilizzazione né di dibattito a livello programmatico di massa su scala europea. Adesso che è giusto quando avevamo più bisogno di svilupparlo. Il problema credo spiega parzialmente che tantissime resistenze sono fermate a livello nazionale, questo è pericoloso giustamente perché la tentazione nazionalista contro l'Unione europea può cadere nelle trappole del protezionismo la priorità nazionale dove c'è un rapporto o può avere un rapporto con il discorso della strema destra, quelli di casa prima, dell'epenismo. Per esempio la demagogia antiliberista e antiglobalizzazione di Trump stesso è totalmente antioperaia peraltro e possiamo vedere che nell'Europa può avere anche una dinamica diciamo di trumpismo o proprio dell'epenizzazione in particolare adesso che le penna il sostegno di Putin peraltro. È veramente pericoloso e l'ultima idea credo che le resistenze e le lotte a scala europea, su scala europea e la sinistra anticapitalista e rivoluzionaria hanno bisogno veramente di un rilancio del dibattito sul socialismo del ventunesimo secolo e l'ecosocialismo del ventunesimo secolo e attualizzare un po' un programma transitorio coerente a livello europeo capace di legare le richieste quotidiane più più immediate a quelle misure anticapitaliste complessive. Legato a questo c'è il bisogno anche di sviluppare un progetto d'Europa dei lavoratori e le lavoratrici. Oggi nonostante conosciamo l'Europa borghese ma non c'è un progetto proprio d'Europa dei lavoratori per precisamente non ricadere nelle tentazioni nazionaliste e questa Europa soltanto può nascere di battaglie condivise dei ceti popolari del continente. Grazie mille.